Corso di laurea in Tecnologie Alimentari ed Enologiche Presso l'Università della Tuscia a Viterbo, accogliente città nell'Alto Lazio, è attivo il corso di laurea in Tecnologie Alimentari ed Enologiche. Il corso di laurea ha durata triennale e si articola in due percorsi formativi specifici, denominati curricula, industrie alimentari, viticoltura ed enologia. Il corso ha carattere professionalizzante e consente un facile e rapido inserimento del laureato nel mondo del lavoro. Il corso offre inoltre la possibilità di effettuare periodi di studio all'estero e di entrare in contatto con il mondo del lavoro anche prima di laurearsi, svolgendo tirocini formativi in azienda. Le strutture didattiche sono ospitali e il personale docente è facilmente raggiungibile dagli studenti e ben introdotto nella ricerca a livello nazionale ed internazionale. I laureati potranno accedere alla professione di tecnico biochimico ed assimilato. Il curriculum viticoltura ed enologia consente l'abilitazione alla professione di enologo. L'attività professionale dei laureati in tecnologie alimentari ed enologiche si svolge principalmente nelle aziende che operano nella produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari ed enologici. Le loro competenze sono altresì richieste negli enti pubblici e privati che conducono attività di analisi, certificazione e controllo per la tutela e la valorizzazione delle produzioni alimentari ed enologiche. Il laureato in tecnologie alimentari ed enologiche potrà inoltre proseguire gli studi ai livelli superiori presso i corsi di laurea magistrale, tra i quali, da segnalare, quello appositamente dedicato, offerto dall'Università della Tuscia. Per informazioni www.dbaf.unitus.it E-mail ruzzi at unitus.it